Buonasera, ben ritrovati per l'edizione di oggi, giovedì 21 settembre, del telegiornale di Vercelli Web TV. Incominciamo con uno spettacolare incidente avvenuto stamattina nell'incrocio tra via 20 settembre e via San Cristoforo a Vercelli. Un'ambulanza che procedeva a serene spiegate senza paziente a bordo ha centrato in pieno una utilitaria che giungeva da via San Cristoforo e transitava col semaforo verde. L'ambulanza invece arrivava da via 20 settembre al lato Giardini. Il violento impatto ha fatto ruotare l'ambulanza che ha colpito un palo della luce. Due feriti non gravi trasportate all'ospedale. Non è grave nemmeno la 14enne investita sempre in mattinata mentre attraversava sulle strisce in via le Torricelli. La donna che guidava l'auto investitrice afferma di essere stata sbagliata dal sole e si accorta all'ultimo momento della ragazza in mezzo alla strada. Nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Vercelli. Arriva dalla città dell'Aquila e da una settimana è nella nostra città. Stamattina lo abbiamo incontrato. Io come incarico arrivo dall'Aquila dove ho retto il reparto, il comando del reparto operativo e ovviamente in quella realtà che era la realtà della ricostruzione e del dopo terremoto della città dopo il terremoto. Sono stato ovviamente proiettato qui nel Piemonte chiaramente dove ci saranno esigenze e realtà diverse che col tempo saranno poi valutate e affrontate in una maniera più idonea e più adeguata all'esigenza. Sì, i primi incontri, le autorità, le prime autorità le ho già avuto l'occasione di incontrarle. Rimarranno chiaramente poi col tempo. Ci sarà occasione poi di incontrare anche tutto il resto dei soggetti che rappresentano e comunque che si interfacciano con la città e con la realtà economica e sociale della città. Cambiamo argomento. Il patrimonio idrico della nostra provincia rende particolare il nostro riso. Come ci spiega Ombretta Bertro del Consorzio di Irrigazione Ovesesia? Sì, assolutamente è una cosa che noi spingiamo come consorzio insieme anche all'Essese di Novara da molti anni. Quindi non solo il patrimonio idrico inteso come tutta la rete dei canali che ha una sua storia e un suo patrimonio, ma proprio la funzione che questa svolge è che il nostro riso è un patrimonio ed è un unicum anche perché viene coltivato utilizzando mescolanza di acqua e consentiti da questa immensa rete di canali che non c'è in altre zone in cui comunque si coltiva riso. Riusciamo a mescolare l'acqua della Dorabaltea con l'acqua di poche. Sicuramente hanno sostanze differenti che aiutano il riso ad essere il prodotto di eccellenza del territorio italiano, uno dei prodotti di eccellenza del territorio italiano, sicuramente del territorio vercellese, Novarese e Pavese. È cominciata questa mattina la quattro giorni di sport, musica e cibo a Vercelli. Allo stadio Piola gli alunni delle scuole primarie e secondarie vercellesi si sono cimentate nel mini torneo di calcio a sette minimero e in piazza Zumaglini è cominciata a Patria Cibis la rassegna itinerante della cibo da strada. In cabina di regia la confesercenti Vercelli. Con oggi si inizia questa settimana dedicata allo sport per la nostra città di Vercelli, fatta in collaborazione con l'assessorato del comune di Vercelli. Queste giornate per noi sono un evento che vogliono significare la sinergia tra il commercio e le attività sportive e ludiche della città. Perché sono i fondamentali? Perché questo movimento ci consente di far spostare persone verso le attività commerciali, dare significativo importanza a quelle che sono le nostre aziende, quelle che loro producono, ciò che fanno e ciò che somministrano. Per cui è per la confesercenti uno degli eventi più importanti dell'anno. È iniziata con successo alla Museo Leone la mostra che ha per tema l'emigrazione vercellese dalla fine dell'Ottocento agli anni Sessanta del XX secolo. Sotto il titolo di In cerca di futuro, Giovanni Barberis, che per Vercelli Web TV conduce il programma Passaporto, storie di vercellese nel mondo, ha proposto fotografie inedite e memorabilia sul tema dell'emigrazione vercellese nel mondo dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. L'ingresso alla mostra è libero. Sabato pomeriggio ci sarà un intervento sul tema il ruolo del cibo come elemento di identità culturale, curata da Paola Bernascone dell'Università Popolare. Sì, poi ci sarà una mia conferenza, conversazione sul cibo come identità culturale e ci saranno molte curiosità da scoprire. Alla fine anche una parte enogastronomica, cura della Scuola di Cucina dell'Università Popolare, diretta da Agostino Gabotti, con un buffet tricolore. Eccoci ad entrati in studio. Domenica Santia si festeggia Sant'Ignazio con una celebrazione eucaristica ed un pomeriggio di spettacoli, giochi e musica. Un altro appuntamento importante sarà il pomeriggio all'oratorio San Grato dove l'associazione Amici di Sant'Ignazio propone un pomeriggio di animazione. Ci sarà ancora il coro San Giacob che animerà con i ragazzi, ma poi tante sorprese, tante novità rispetto alle edizioni dell'anno scorso. Mi preme ringraziare i volontari, in particolare ringrazio Fabrizio di Salvo che come ogni anno si prende cura della grande organizzazione di questa festa. Attendiamo centinaia di ragazzi, abbiamo loro da presentare non solo un pomeriggio di festa, ma anche un modello, Sant'Ignazio, una persona, un frate che si è preso cura. È possibile ai giovani impegnarsi nella solidarietà, nella carità, i nostri ragazzi lo sanno fare, i modelli sono i santi che ci guidano tutti i giorni in questo cammino. Ed ora una breve pausa pubblicitaria prima di passare alla pagina sportiva. Il prossimo turno del campionato di calcio di Serie B che si gioca sabato prevede per le bianche casacche della Provercelli il posticipo serare lunedì prossimo 25 settembre a Palermo. Ma purtroppo, dico purtroppo, non sono più tanto giovane io perché ho 24 anni e nel calcio 24 anni non si è più giovanissimo, quindi è un treno importante per me che sta passando e devo cercare di starci sopra il più possibile e ottenere il massimo perché io, come dicevo da piccolino, lo dico ancora adesso, da grande voglio fare il calciatore e passa tutto anche da quest'anno e io darò la vita, darò l'anima a tutte le partite perché questo è quello che voglio. Bene, per oggi è tutto, l'appuntamento come di consueto col nostro telegiornale è domani alle ore 19, buona serata.